ciao a tutti ragazzi eccomi come al solito riemergere dalla nebbia oggi facciamo un po di cloud ragazzi un po di nuovolone in questa stanzetta praticamente due tirate è finita ci siete più una mazza ma niente oggi voglio parlare di un liquido che sto provando ovvero il black cioè il black è il brand che lo produce la nuova linea è questa fried fritto e in particolare del golden berry questa sorta di tortino ripieno di questa fragola questo cremoso di fragole fritto ora ne parliamo assurdo liquido assurdo prova olfattiva si sente questo sentore di fragola che ha l'olfatto tende un po il chimichino e dietro arriva questo sentore di fritto ma fritto fritto cioè è una cosa grave ce lo andiamo a provare sul goon con il wildboard del sit che adoro saiga allora devo dire che a differenza della prova olfattiva la fragola non è chimica la fragola è molto buona black la fragola la sa fare secondo me viene molto bene però a differenza dell'origins che mi è capitato diverse volte in casa e non sono mai riuscito a recensirlo ho provato sia la versione quando uscì il primo con la bottiglietta nera buonissimo probabilmente è durato mezza giornata ho provato la versione mix serious anche quello me lo sono fatto scappare a livello di recensione sempre molto buono però l'ho trovato un pochino più carico l'ho allungato con i 10 ml per portarla a 3 ma mi sembrava leggermente più carico rispetto alla versione nella bottiglietta nera di questa adesso la faccio la recensione almeno del friday se no poi mi scappa anche questo a prescindere a livello di etichetta di immagine mi piace veramente tanto lo so non conta niente perché poi se il liquido fa cagare per carità però ragazzi io guardo anche a queste cose e a livello di etichetta mi piace molto però parliamo un po' di svapo ripeto la sensazione che ho avuto all'olfatto di questa fragola molto chimica si perde perché la fragola è molto buona molto molto buona è una fragola dolce ma secondo me non è dolce come la fragola dell'origin e poi regà dobbiamo parlare di questo fritto scusate ogni tanto mi scappa dobbiamo parlare di questo fritto cioè io non ci posso credere cioè non ci posso credere cioè veramente fritto ragazzi qui la situazione è drammatica peggiore di tiro in tiro cioè veramente sa di fritto è qualcosa di assurdo assurdo sembra tipo un bombolone però invece di esserci la crema c'è tipo la marmellata di fragola c'è questo bombolo ripieno di marmellata da fragola il liquido è dolce molto molto dolce io personalmente magari per lunghe sessioni non riuscirei a svaparlo perché come un po' tutti gli americani è molto dolce però è anche molto buono cioè soprattutto aver centrato secondo me in maniera così netta e precisa il fritto è un grande lavoro buono ripeto la fragola dolce ma non dolce a mio avviso come quella dell'Origins questo fritto stupefacente veramente mi ha lasciato colpito perché sa proprio di fritto di qualcosa di fritto ripeto questa sensazione di fritto questo dolce questa fragola mi fa pensare a un bombolone fritto ripieno di marmellata di fragola con questo zucchero mi piace soprattutto mi ha colpito il fritto ragazzi che non ha cioè magnammelo per carità fritto è buono pure in pezzettino di merda scusate 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 però è la verità cioè fritto è buono tutto pure in sergio è buono fritto quindi ok allo svapo non è un qualcosa che adoro sinceramente perché tende un pochino ad appesantire già gli americani sono carichi cioè buttiamo pure il fritto evviva però bisogna dare atto a black di aver fatto un lavorone perché sta proprio di fritto ragazzi cioè è una cosa incredibile ripeto questo bombolone fritto questa marmellata di fragola il liquido mi piace è molto dolce ripeto magari tutto il giorno non riesco a svaparlo però ogni tanto quella una trippatina ci sta bene se siete amanti del fritto provatelo assolutamente come al solito io non consiglio di comprare nulla siete voi che decidete come spendere i vostri soldi consiglio sempre però magari di provare le cose qualche amico in qualche store fisico se ne avete l'occasione provatelo perché è veramente assurdo come hanno riprodotto il fritto non mi resta che salutarvi e mandarvi un abbraccione ci vediamo presto